Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale di Trump indagato nel Russiagate. Si presentato nella sede dell'FBI di Washington. Manafort, ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump. Si costituito all'FBI davanti al procuratore speciale statunitense Robert Mueller. Lo ha riferito la CNN. Era stato incriminato venerdì scorso nell'ambito dell'indagine sul Russiagate guidata da Mueller. Gli era stato chiesto di consegnarsi. Al centro dell'inchiesta ci sono le interferenze di Mosca nelle presidenziali USA. I presunti legami tra il comitato elettorale di Donald Trump e il Cremlino e il possibile intralcio alla giustizia da parte dell'attuale presidente americano. Le accuse contro Manafort segnano una significativa escalation in un'inchiesta che getta un'ombra su Trump che si appresta a celebrare il primo anniversario della sua elezione. Secondo il New York Times, a Manafort era stato chiesto di consegnarsi alle autorite federali e con lui, stato chiamato in causa anche Rick Gates, suo ex socio in affari. Il suo nome, secondo il quotidiano new yorkese, apparso su documenti collegati alle aziende che l'impresa di Manafort crea a Cipro per ricevere denaro da politici e imprenditori dell'Europa dell'Est. 12 capi d'accusa per Manafort c'è anche la cospirazione contro gli USA tra i 12 capi di accusa contro Manafort e Rick Gates, tra gli altri capi di accusa il non essersi registrati come agenti di uno stato straniero, aver fatto dichiarazioni false e fuorvianti, riciclaggio e omessa denuncia di conti su banche straniere. Manafort sarebbe anche accusato di evasione fiscale. Paul Manafort, AP, Rick Gates, ex socio Manafort, si consegna a FBI anche Rick Gates, ex socio di Paul Manafort, si consegnato all'FBI nell'ambito delle indagini su Russiagate condotte dal procuratore speciale. Robert Mueller, altro su MSN. Trump trema. In arrivo accuse e manette per Russiagate. ANSA, riproduci nuovamente video successivo. Obama ha chiamato a fare il giurato. Per 17 dollari al giorno a novembre in tribunale Chicago. Nel 2010 fu costretto a dire no ANSA. Trump trema. In arrivo primi capi di accusa e arresti il miliardario conservatore Singer dietro al dossier anti-tycoon ANSA. L'AND è cancelletto 39. UE rafforza la sicurezza delle navi passeggeri via libera a tre direttive. Anche digitalizzazione e ispezioni ANSA. Uno annulla IMPOS TA ZION e NON attivo. HDA HQSDLO.